Le uscire sono problematiche, non è qualcosa che si può uscire, fare una passeggiata, con un po' di timore si esce, però sempre col colpo alla gola. Abito in centro, giro in bicicletta, però posso dire che di sera non esco volentieri. Questo è un punto, via San Francesco, tante vie della città non sono sicure di sera al buio, purtroppo. Al di là di tutto sono i numeri che parlano e la fotografia statistica della classifica, stilata dal sole 24 ore, non lascia spazio a dubbi. Crolla la qualità della vita a Padova, qui si sta peggio che a Roma e Milano la città del Santo perde nove posizioni e precipita al 45esimo posto. Un effetto caduta dovuto soprattutto alla microcriminalità. In città si sente il peso di scippi e borseggi. Nel 2013 ci sono state 315 denunce, ogni 100.000 abitanti, un tasso addirittura superiore a quello registrato a Napoli e Palermo. Chi può andare? Soprattutto nella zona della stazione non è sicuro e purtroppo per una ragazza che magari è da sola è un po' pericoloso. E i dati della classifica riferiti al 2013 e dunque alla passata amministrazione fanno saltare sulla sedia il sindaco Bitonci, paladino della sicurezza che non usa mezzi termini nel condannare quella che definisce la mala gestione Zanonato Rossi, bocciati dagli elettori dice e dalla storia, mentre continua l'impegno della squadra del sindaco leghista per garantire più sicurezza. Stiamo avviando tutta una riorganizzazione del corpo della polizia ma tanto abbiamo davvero già fatto con l'assessore Saia in questi quattro mesi e continueremo su questa strada cercando di garantire una migliore tutela. Ci pensa Andrea Micalizzi a restituire gli attacchi al mittente accusando l'attuale sindaco di impotenza e di accampare scuse infantili dando la colpa agli altri sapendo soltanto guardare con rancore al passato.